superare la difficoltà iniziale perché secondo me è una cosa davvero ostica per chi non l'ho mai letto quindi però è una cosa noi facciamo questi incontri qua perché proprio è difficile proprio incominciare sì che non sai da che parte prenderlo non lo sai non capisci niente perché se leggi le cose in modo disordinato non le capisci insomma io parlo per esperienza certo ho trovato mamma mia sono andato davanti 4 5 anni senza capire niente io poi ho dovuto fare una scuola non te la cavi da solo sì ho sentito che lo raccontavi nella nella scorsa diretta ed effettivamente l'inizio mi sento parallelo a te proprio ma devi avere pazienza perché qua ci vuole ci vuole costanza perché poi le cose vanno tutte a posto vanno a posto da sole ci vanno a posto per forza vanno a posto da sole io conto su quello è come dire guarda c'è un esempio che poi verrà portato è come fare il pane dice tu prendi la farina ci metti l'acqua ci metti lievito lievita e poi lo cuoci e quindi poi hai pane quindi devi mettere assieme gli argomenti come le tessere di un puzzle e poi la mente si mette in ordine tu capisci che siamo tipi di uomini diversi che abbiamo che per quanto ci illudiamo di evolvere non lo faremo facilmente se non ci impegniamo ma questo qua è un po la questione adesso questa sera andiamo avanti praticamente abbiamo parlato degli uomini 123 sì che siamo tutti uomini 123 da lì non ci scappiamo se non se non ci impegniamo con costanza con molta buona volontà non usciamo da lì ci sono l'argomento di questa sera un po più lungo si parla dei centri che i centri energetici centri della mente l'uomo è un tricerebrato tricerebrale quindi su questi argomenti c'è una lettura e poi in fondo c'è una discussione per chi ha domande per chi vuole saperne di più per chi ha capito perché tanta gente rimane lì amichilita e non sa che cosa dire ecco ma arrivo a vedere ma noi sappiamo che queste cose non sono per la gente sono per poche persone quelle che vogliono veramente capire come funziona il mondo tant'è che si parlerà dell'universo della cosmologia queste cose qua adesso volevo vedere se c'è Floriella ci sei come no certo sono qua non mi vedi allora piacere Floriana presentatevi se non vi conoscete noemi una dottoressa di roma che è un'amica di è un'amica di daniela tu la conosci daniela no daniela cremoni di rigenera life sì va bene allora lei e poi valentina che mi sembra che ci sia anche c'è anche se c'è giosia e giosia valentina ci sei valentina yes sì non ho cambiato il nome ma sono io no no bene immaginavo si vede che sei tu anche se giosia può sembrare da donna ma si vede che sono io no no si vede che sei tu no no ma è perché ormai io lo sapevo possiamo partire secondo te e chi manca non manca nessuno perché chi manca sono affari suoi noi ormai i cinque o anche di più minuti di tolleranza li abbiamo già consumati chiacchierando adesso andiamo avanti a fare qualcosa di concreto dai va bene allora partiamo comincia Floriella sì dai ok grazie nell'incontro di martedì scorso abbiamo visto i tipi di uomo e ci siamo soffermati sull'uomo tipo 1 tipo 2 tipo 3 tutti gli umani nascono da questi tre tipi sono gli uomini meccanici la quasi totalità di questo tipo di uomo rimane chiuso nelle caratterizzazioni senza possibilità di evolvere non importa diplomi o lauree che abbiano conseguito e nemmeno esperienze di vita per uscire dalla meccanicità ci vuole un impegno costante e profondo fatto di sforzi coscienti e ci vuole una guida o una scuola sono contenuti questi che riguardano la quarta via e svilupperemo questi argomenti nella serie di incontri di quest'autunno Gurdjieff è stato un grande filosofo un personaggio misterioso del secolo scorso che ha influenzato la vita del mondo occidentale una delle persone maggiormente influenti di quel periodo ha portato dall'Oriente e dal Tibet insegnamenti segreti mantenuti nascosti e sconosciuti Ospeschi un suo collaboratore e grande stimatore ha riassunto il pensiero di Gurdjieff nel libro frammenti di un insegnamento sconosciuto ha avuto e continua ad avere un enorme seguito e come i grandi ha avuto anche molti nemici nell'incontro della settimana scorsa abbiamo parlato dei tipi di uovo ed abbiamo sottolineato il fatto che l'umanità nella sua complessità è inerte e nella sua complessità non accetta cambiamenti Gurdjieff è stato quello che viene definito un seminatore avendo influenzato in modo determinante la cultura occidentale ha portato molti insegnamenti universali che erano stati e sono tuttora proibiti gli avevano già diffusi il Pitagora e i Pitagorici che sono stati perseguitati fino ad essere bruciati a metà pompeo in tutta la Terra ci sono testimonianze di una cultura sconosciuta della quale si sono trovate testimonianze nei miti nei simboli e nelle rovine di città sperdute in tutti i continenti le rivelazioni di Gurdjieff dimostrano che è esistita una umanità molto evoluta e che ora l'umanità sta regredendo rapidamente rischiando la sua estinzione il segnale sarebbe l'enorme e assurda proliferazione di leggi che limitano la libertà e la salute e che consente la predazione economica nel raggio della creazione che fa parte di questo ciclo di incontri viene spiegato che il numero delle leggi aumentano mano a mano che ci si allontana dall'assoluto, dal creatore tutti gli umani possiedono tre cervelli che esprimono tre menti lo sviluppo completo dell'individuo esige che i tre lavorino assieme è una questione di coerenza oltre che di coscienza quello che penso, quello che sento e quello che faccio devono tendere alla stessa direzione non ci devono essere resistenze o contraddizioni lo sviluppo richiede armonia, coerenza e costanza abbiamo visto che nelle vie del Fakiro, del Monaco e dello Yoji lo sviluppo è parziale le tre vie sono da considerare come passi successivi, propedeutici come le classi di una scuola dai primi elementi fino alle scuole superiori e ad un'università l'evoluzione è un processo graduale le tre vie hanno la caratteristica comune di essere isolate con una componente di fanatismo propria delle fasi di apprendimento Gurdjieff afferma che lo sviluppo della coscienza umana è come un bambino che impara passa gradualmente dal fanatismo fino a so di non sapere la quarta via propone lo sviluppo simultaneo dei tre aspetti in congiunto senza isolamento o condizioni artificiali come la sottomissione del corpo o dei rigori estremi non è necessario passare ore a pregare e non è richiesto di leggere tutti i libri strani delle grandi biblioteche l'aspetto psicologico della quarta via è la pratica di comportamenti che consentono di trasformare le emozioni negative e ottenere uno stato di coscienza più elevato nel sistema cosmologico di Gurdjieff vedremo il rapporto dell'uomo con i satelliti, la luna ed il sole come proseguimento della descrizione dei tipi di uomo facciamo un cenno al tipo 4 il tipo 4 è l'uomo della quarta via l'uomo astuto, l'uomo consapevole quello che riesce ad equilibrare le prime tre vie sviluppando armonicamente tutti gli aspetti dell'essere senza abbandonare la sua vita ordinaria per richiudersi in un monastero essere nel mondo ma non nel mondo libero di elevarsi avendo una possibilità di crescere ulteriormente verso gli uomini 5, 6 e 7 nella metafora della casa lavora sulle tre camere contemporaneamente il fachiro lavora sulla prima camera il monaco lavora sulla seconda lo yogi sulla terza il loro lavoro faticoso rimane sempre incompleto non sono padroni di tutte le loro funzioni la quarta via differisce dalle altre perché impone di capire l'uomo non deve fare nulla senza comprendere può fare esperienze che rimarranno senza senso deve agire sotto il controllo e la direzione del suo maestro i risultati ottenuti nel lavoro sono proporzionali alla coscienza che si ha di questo valore il marchio distintivo del metodo di Gurdjieff è il gruppo gruppo possibilmente guidato da un maestro il gruppo di lavoro è il supporto fondamentale per lo sviluppo di tutto il sistema un uomo da solo non può fare nulla è in prigione e vi rimane se siete intelligenti tutto quello che potete desiderare è fuggire queste sono sempre parole di Gurdjieff il lavoro si è sviluppato e tramandato attraverso gruppi d'allievi dalla sintonia e dal conflitto delle diverse personalità Benzebù nei racconti spiega al nipote che esistono antiche vie basate su impulsi d'origine divina fede, speranza e amore sentimenti che nei tricerebrati, cioè noi sono sviliti al punto di essere inservibili l'immaginario profeta Asiata Siemash scopre una nuova via basata sulla coscienza morale oggettiva anch'essa d'origine divina ma così rara nel mondo da essersi preservata incorrotta ed essere quindi ancora attiva tale coscienza è divenuta inconscia e deve quindi essere risvegliata l'uomo è un essere tricentrico o tricerebrale i trecentri o cervelli devono funzionare in modo armonico e non sbilanciato come di norma Stomaco è tutto quello che si trova sotto a questo cuore e testa o, se si preferisce, corpo, emozioni e intelletto devono equilibrare le loro funzioni e non interferire tra loro non bisogna quindi sacrificare o mortificare nessuna delle parti dell'uomo ma bilanciarle e restituirle alla sfera appropriata Un umano deve meritare la definizione di uomo questa è un'altra citazione di Gurdjieff meriterà il nome d'uomo e potrà contare su ciò che è stato preparato per lui dall'alto solo colui che avrà saputo acquisire i dati necessari per conservare indenni sia il lupo sia l'agnello che gli sono stati affidati I nati uno, due e tre dipendono da tre centri energetici ben distinti gli umani guidati solo da uno dei loro centri l'intellettuale, l'emozionale o il sensitivo motore sono uomini meccanici imprigionati nel loro schema Il quarto tipo d'umano, lo scaltro, l'astuto ha equilibrato i tre centri ed assapora i primi bagliori di libertà Un'idea fondamentale collegata con questa è quella della differenza fra conoscenza e comprensione La prima, la conoscenza, è fondata su un solo centro, abitualmente il centro intellettuale La seconda, la comprensione, è tricentrica, passa in pratica per tutte le facoltà Ciò che è compreso, ossia conosciuto e capito, sentito e percepito, ci appartiene davvero La semplice conoscenza è aleatoria Gurdjieff aveva poca considerazione per l'uso puramente intellettuale e teorico dell'insegnamento senza la comprensione e la pratica Per controllare la macchina bisogna prima studiarne il funzionamento Tutto comincia dall'osservazione obiettivamente imparziale di se stessi I primi passi verso la libertà sono l'autoosservazione ed il monito dell'oracolo di Delphi conosci te stesso Il lavoro inizia con l'osservazione scientifica neutrale di se stessi Con l'esame del proprio corpo in modo scientifico e basandosi inizialmente sul centro fisico In seguito sui centri emotivo e mentale Il corpo è l'unico strumento con quale lavorare Fatene un buono strumento Non tollerate che sia esso a controllarvi I nostri corpi sono dei fertilizzanti per l'anima Alla base degli insegnamenti della quarta via ci sono i principi del chivaglione e dell'identità fra il microcosmo e il macrocosmo L'uomo è l'immagine dell'universo e segue le stesse leggi Tutte le manifestazioni obbediscono a due leggi universali La legge del 3, o triade E la legge del 7, ottava Occorre cominciare ad accumulare del materiale Ma non si può ottenere del pane senza la cottura La conoscenza è acqua Il corpo è la farina E l'emozione, cioè la sofferenza, è il cuoco Continuiamo sempre con le parole di Buge I centri sui quali si svolge il lavoro sono definiti anche corti Sono sostituiti da sostanze che diventano sempre più sottili Si compenetrano e formano quattro organismi indipendenti Aventi tra loro una relazione ben definita Ma capaci di azioni indipendente L'uomo completo ha raggiunto lo sviluppo possibile Ed è composto di quattro corpi Secondo la terminologia teosofica Il primo è il corpo fisico Il secondo è il corpo astrale Il terzo è il corpo mentale E il quarto il corpo causale Sono argomenti questi da approfondire in altra sede E che speriamo approfondiremo La spiegazione dei centri viene fatta attraverso la metafora dell'auriga O paragonando l'uomo ad un appartamento di quattro stanze La prima stanza è il corpo fisico che corrisponde alla carrozza La seconda stanza è il centro emozionale che corrisponde al cavallo La terza stanza, il centro intellettuale, corrisponde al copriere La quarta stanza è il padrone Che si manifesta quando tutto l'appartamento è in ordine e ben ammobiliato Prima di arredare la quarta stanza bisogna aver arredato le altre tre Il corpo fisico è suddiviso in due centri che hanno funzioni differenti Il centro motorio e il centro istintivo Si può dire che l'essere umano è corredato di quattro intelligenze Quelle dei primi tre corpi Primo, quella del centro motorio, deputato al movimento Il secondo, quella del centro istintivo, deputato alla sensazione Il terzo, quella del centro emotivo, deputato all'emozione Il quarto corpo, l'ultimo, del centro intellettuale, deputato al pensiero Continua Valentina, passo la parola a Valentina Grazie, grazie Floriella Allora, tre categorie di uomini L'uomo numero uno ha il suo centro di gravità nel corpo fisico L'uomo numero due in quello emotivo L'uomo numero tre in quello intellettuale Il corpo fisico è suddiviso in due parti Centro istintivo e centro motorio Il centro istintivo accumula energia Il centro motorio le disperde Anche il centro emozionale è diviso in positivo e negativo E permette di distinguere il piacevole dallo spiacevole Il centro mentale permette di stabilire dei paragoni La parte negativa del centro mentale Nutre la gelosia, la diffidenza, l'ipocrisia, il tradimento, ecc. Il centro emozionale, fuori controllo, veicola emozioni negative Tre centri e quattro corpi Primo corpo, corpo fisico o carrozza, il corpo Movimento, deputato alla sensazione delle cose Diviso in centro motorio Movimenti nello spazio, imitazione Sogni notturni e sogni ad occhi aperti, immaginazione E centro istintivo Funzioni organiche, digestione Battito cardiaco, respirazione, riflessi semplici Funzioni innate Il secondo corpo è il corpo emotivo O cavallo Cioè i sentimenti e i desideri Centro emotivo, detto anche sentimentale Vede la qualità delle cose Il terzo corpo è il corpo mentale O cocchiere Cioè il pensiero Centro intellettuale, detto anche teorico Vede i significati delle cose Il quarto corpo è il corpo spirituale O padrone Cioè io, coscienza, volontà I centri sono del tutto indipendenti Noi cerchiamo sempre di ridurre tutto ad un unicamente Non ci rendiamo conto che in noi esistono quattro esseri indipendenti Quattro individui che convivono e spesso sono in conflitto L'istintivo è un uomo fisico C'è l'uomo sentimentale o emotivo E quello teorico o intellettuale Nell'autoosservazione possiamo distinguere i vari aspetti E vedere dove sbagliamo Considerandoci un essere unico Con una sola personalità Un solo io Sempre lo stesso I nostri tre centri Mente, corpo e sentimento Lavorano con energie diverse Possiamo ricevere influenze più alte E sottili Solo se i nostri centri Sono disposti in un certo modo Se i centri non sono equilibrati Le influenze del mondo sottile Non ci possono raggiungere I centri e quindi i corpi Recepiscono gli eventi in modo diverso Lo possiamo osservare in noi stessi L'intelligenza di una persona è multiforme Ed in uno stato passivo I centri non sono collegati fra loro Non hanno una direzione comune E uno si sente vuoto Uno deve essere presente a se stesso in modo volontario Il corpo astrale o corpo spirituale Non è indispensabile per l'uomo È un gran lusso per l'uomo meccanico Non è alla portata di tutti L'uomo può vivere benissimo senza corpo astrale Il suo corpo fisico possiede tutte le funzioni necessarie alla vita Le funzioni del corpo fisico governano tutte le altre Ma il corpo fisico è governato da influenze esteriori Ma nell'uomo evoluto è presente il quarto corpo E allora la direzione e il controllo competono al corpo superiore Occorre precisare che ciascun centro è contenuto anche negli altri Il centro intellettuale inferiore Oltre ad avere le due parti positiva e negativa Ha anche una parte intellettuale Una emozionale e una meccanica E così via per gli altri centri Conoscere e lavorare con i centri è una buona base di partenza Per arrivare al ricordo di sé Uno deve lavorare da vero uomo Significa che deve sentire ciò che sta facendo Il che E pensare al motivo per cui lo fa Il perché I tre centri si devono fondere E dare origine all'insieme cristallizzato Fuso Che consente di originare il quarto corpo Ossia il corpo astrale L'esempio esplicativo è quello di un vaso Con una mescolanza meccanica di polveri Le polveri non hanno una relazione reciproca fra di loro Finché non vengono fuse e diventano una lega Sulla lega si può operare Perché è diventata un corpo unico e indivisibile È stata fusa per mezzo del fuoco Il fuoco Per la fusione dei centri inferiori nell'uomo È il conflitto La frizione La lotta tra il sì e il no Se un uomo non resiste mai ad alcuno dei suoi desideri O è loro accondiscendente O peggio se li lusinga li incoraggia Non ci sarà mai un conflitto interiore Una frizione Un fuoco che faccia fondere i tre centri Per raggiungere uno scopo definito Egli deve lottare con i desideri che lo ostacolano La lotta è il fuoco che trasformerà gradualmente il suo modo interiore in un tutto Il suo mondo interiore in un tutto Per giungere alla quiete totale L'esistenza di altre Piene di tesori Quando ne sente parlare Incomincia a cercare le chiavi di queste stanze Specialmente della quarta la più importante Quando ha trovato il mezzo di penetrarvi Diventa realmente il padrone della sua casa Perché soltanto allora La casa gli appartiene completamente e per sempre La quarta stanza dà all'uomo l'immortalità dentro il suo sistema cosmico L'ipocrisia delle religioni Pretende di indicargli il cammino in pratiche esterne La strada è verso la quarta stanza È nel ricordo di sé all'interno di ognuno di noi Tutte le strade verso di sé Conducono all'immortalità dell'anima La percezione di sé è un sentimento Una qualità totalmente nuova Che ha la capacità di portare alla sapienza Quando appare questo sentimento Il pensare perde l'autorità e il corpo Perde l'autorità ed il corpo libero dalla sua influenza si rilassa L'energia liberata dalla mente che tace Trova il proprio movimento E il corpo si relaziona con questa nuova energia Cessa la dualità Non ci sono più un oggetto ed un osservatore L'oggetto e chi lo guarda sono fusi Il lavoro della quarta via crea l'armonia dei centri E fa apparire l'intelligenza superiore Quando riscontrate che l'attenzione attiva Si perde nella passività Ne soffrirete Non dovete tentare di fare qualcosa Dovete accettare questa sofferenza E mantenere l'attenzione attiva Il lavoro sul centro motorio Il centro motorio definisce il tipo di uomo pratico Che agisce senza pensare Vi appartengono i movimenti automatici E l'imitazione Una funzione importantissima La parte emozionale del centro motorio È quella che fa prendere piacere ai movimenti E che dà la tenerezza passionale Nella creazione artistica Dà l'armonia dei movimenti Ad esempio nella danza In stato di identificazione Il centro motorio non funziona affatto E la sua energia viene assorbita Dalle parti meccaniche del centro intellettuale ed emozionale Tutte le persone tendono ad avere nella vita quotidiana Una qualche forma di lavoro Che richiede l'uso del centro motorio È necessario che il corpo si sforzi volontariamente Coscientemente È necessario comandare a se stessi di fare le cose La volontà deve essere attiva Se si fanno le cose meccanicamente Non si ottengono benefici Il corpo fa parte della vita organica della Terra Si occupa direttamente delle funzioni di sopravvivenza Ma noi dobbiamo essere presenti con la mente E controllare la sua avidità Il lavoro sul centro istintivo Il centro istintivo appartiene al primo centro con il motorio Il lavoro non è necessario Perché il centro è molto più attento di noi E sa molto più di noi Se qualcosa va male nel corpo Dobbiamo tentare di aiutarlo quanto più è possibile Il centro istintivo regola il lavoro interno del corpo fisico E ci avverte se qualcosa va male Sia per mezzo del dolore Sia per mezzo del disagio Il lavoro sul centro emozionale Il centro emozionale funziona in base al principio della ricerca del piacere E nella sua parte meccanica comprende il sentimentalismo L'attrazione per le emozioni collettive più basse L'ipersensibilità morbosa ma anche l'umorismo La parte pura è la sede dell'immaginazione creativa E può condurre al risveglio della coscienza Ma se funziona in stato di identificazione Conduce solo all'amore di sé come fonte di emozioni negative E alla menzogna La parte intellettuale del centro emozionale È quella più importante di tutte E quando è combinata con la parte intellettiva del motorio Dà la creazione artistica È la sede del centro magnetico E il centro delle intuizioni Dà il modo di pensare nuovo Secondo una logica dialettica Che sa vedere la sintesi degli opposti È la via verso i centri superiori Quando la personalità è armonizzata L'osservazione e la separazione interiore dalle sottili depressioni Oltre alle emozioni negative più evidenti Il fermare l'immaginazione Il lavoro sugli stati negativi L'impiego del centro intellettuale Per ricordare esattamente ciò che si è detto Inoltre quello che si è immaginato Il lavoro sul centro intellettuale Nella maggior parte degli uomini Il centro mentale Lavora solo nella sua parte meccanica Il che significa che l'uomo non sa pensare Deve ancora imparare a usare la sua mente Non sa porre attenzione Non ha volontà La parte emozionale del centro mentale È invece quella che fa prendere piacere Al lavoro mentale e allo studio Dà la passione intellettuale Oppure l'erotismo E vari tipi di immaginazioni inutili Ma ha anche il desiderio di conoscere E la soddisfazione di sapere La parte intellettuale pura Ci dà il pensiero vero e proprio Che conduce alle scoperte E alle invenzioni con imparzialità Attenzione e sforzo Tutti gli uomini Ciascuno di voi Prende in considerazione un oggetto qualunque E al suo riguardo Si ponga le seguenti domande Rispondendo in base alle proprie conoscenze E al proprio materiale La sua origine La causa della sua origine La sua storia Le sue qualità E i suoi attributi Gli oggetti in contatto In relazione con esso I suoi usi e applicazioni I suoi effetti e conseguenze Quali cose esso permette di spiegare e dimostrare La sua fine o il suo divenire La vostra opinione su di esso La causa e i motivi di tale opinione Grazie Valentina Grazie Florielle Siete state bravissime Questa esposizione è molto lunga È stata molto lunga Voi fate un servizio eccezionale Va bene Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire Oppure se c'è qualcuno che chiede qualche precisazione Siamo qua per quello Io volevo prendermi qualche minuto Per spiegare un paio di cose Perché durante l'esposizione si parla di Si parla dell'immortalità L'immortalità Secondo Gurdjieff è Una cosa che succede che arriva Al quarto corpo Quindi la quarta stanza C'è una frase che dice così La quarta stanza dà L'uomo l'immortalità Dentro il suo sistema cosmico Questa qui è una frase Che è uno che non conosce questi argomenti Soprattutto chi non conosce Il raggio della creazione È enigmatica e sembra esagerata Questa va spiegata C'è qualcuno che sa che cosa significa Se c'è qualcuno lo dica Così ci risparmiamo un po' di lavoro In sostanza succede questo Il raggio della creazione Che si rifà alla legge del 7 Quindi dell'ottava È un'ottava discendente Che comprende la volontà del creatore Del creato di formare il mondo Però il raggio della creazione Non è uno Ne parleremo Faremo un incontro specifico Sul raggio della creazione I raggi sono molti E allora Il sistema cosmico Che ci riguarda a noi È quello del sistema solare Che comprende il sole Come do superiore Perché vedremo che L'ottava Si raffigura come Le note musicali E il do superiore è il sole Poi i mondi che dipendono dal sole Sono i pianeti Noi dipendiamo direttamente dal sole Come terra E dopo di noi avviene la luna E dopo della luna Che è il do inferiore C'è il nulla Il nulla che si confonde con il tutto Con l'essenza divina Allora L'immortalità dell'anima Per quello che spiega Gurdjieff Riguarda il nostro sistema Ossia Un uomo che raggiunge La sua evoluzione E che quindi è andato All'illuminazione Significa che è andato Verso il suo sole Ed è immortale Finché esisterà Quel sistema solare Quel sistema cosmico Quindi l'anima Non è immortale In senso assoluto È immortale relativamente Al sistema cosmico Al quale appartiene Il suo raggio della creazione Non so se questo è chiaro Si possa capire O se sia ancora Enigmatico Ma se avete qualche domanda Io sono qua C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Avete sempre paura di me? Com'è la storia? Posso fare un'osservazione Cioè l'anima L'anima è immortale All'interno Del raggio cosmico In cui è stato All'interno del raggio cosmico Che ci interessa Noi per esempio Facciamo paura Però quanto è grande Quanti millenni Centinaia di anni Di secoli Dura questa creazione Hai paura di morire? No No voglio dire No Non mi hai capita Cioè se deve No no Il mio avviso È illimitato Cioè saranno miliardi di anni Quindi è immortale lo stesso No È immortale Finché dura il sole Perché se Se il sole Che è l'inizio Del nostro raggio Della creazione Muore Muore anche l'anima immortale Quindi l'immortalità Per quello che riguarda Il raggio della creazione Quindi tutte le teorie Di Gurde Che sono state importate Poi dal Tibet E non Sono cose antichissime Tenute nascoste Che non conosce nessuno Che Che Abbiamo il titolo Di questa sera È proprio Un insegnamento Proibito Perché Chi Fa questo tipo Di insegnamento Veneva perseguitato Perché uno si libera Dalla schiavitù Del sistema Quindi Si libera Da quello che noi Ne parliamo continuamente Dalle forze del male Ecco Questa era la precisazione Che volevo fare Perché Letto così Mi sembra che uno dice Come diventiamo immortali Siamo immortali Perché siamo spirito E la base di tutto Questo studio qua È che noi Abbiamo un corpo Che fa parte del sistema organico della terra Che ha una funzione particolare Il sistema organico della terra E noi Come esseri viventi Abbiamo un privilegio Rispetto agli altri organismi Che abbiamo la possibilità Di scegliere Abbiamo l'arbitrio Possiamo rimanere Come siamo Cioè uomini Uno, due, tre E in questo modo Siamo Nutrimento Per i pianeti Per la luna La luna Lo vedremo nel raggio della creazione Vive delle sofferenze dell'uomo Ma l'uomo Può smettere di soffrire Se va verso la luce Se va verso il sole Quindi Uno può andare giù E va verso la luna E uno può andare su Si evolve E va verso il sole Vedete che Quando si parla Di una persona molto evoluta Si parla di una persona illuminata Questa è la luce del suo sole Mi sembra che questo Sia quello che si doveva dire Ok Qualche dubbio Qualche Vediamo chi c'è qua Che di solito Va bene Se Queste cose sono chiare Vi faccio io Un quesito Che poi Perché le persone che stanno Nel grande corso di autogregione Che stanno facendo il terzo modulo Nel terzo modulo Se lo trattiamo queste cose qua Dovrebbero Dovrebbero Normalmente Richiedono di essere spiegate La questione dei tre centri e dei quattro corpi Ne abbiamo parlato ancora ma Il fatto è che noi Siamo uomini uno due tre Dipendiamo dai centri Istintivo motorio dal centro emozionale al centro intellettuale Allora Qui già abbiamo nominato già tre funzioni Quattro funzioni in particolare Perché il primo centro è l'istintivo motorio Quindi riunisce due funzioni Quella istintiva e quella motoria Poi c'è il corpo emozionale Poi c'è il corpo intellettuale Questi comunque definiscono i tre corpi Che abbiamo anche visto il corpo fisico Che è stato descritto Il corpo emozionale E il corpo intellettuale Il fatto è che noi parliamo sempre di tre centri Che definiscono tre corpi E poi ci troviamo un quarto corpo Che è il corpo spirituale E cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che Al quarto corpo non abbiamo normalmente accesso Quindi si parla dei tre corpi Che fanno capo ai tre centri Ma i centri sostanzialmente sono cinque E i due centri Il centro intellettuale superiore E il centro emozionale superiore Fanno parte del mondo sottile Al quale noi non avremo accesso Fino a che non abbiamo sistemato Equilibrato i primi tre centri Quindi i primi tre centri Una volta che sono fusi Come abbiamo visto Le polveri metalliche In un crogiolo Che diventano una cosa sola Organica Monolitica Non possono Non danno la possibilità Di andare al piano superiore Per così dire Per arrivare alla quarta stanza Di diventare il padrone della carrozza Di diventare L'abitante della quarta stanza Di diventare il padrone della casa Questi argomenti interessano perché Perché noi normalmente abbiamo l'illusione di poterci evolvere E non ci riusciamo Quindi tre centri che definiscono i tre corpi Ci possiamo domandare come mai ne abbiamo quattro Il corpo spirituale e il corpo astrale Il fatto è che i centri Come ho appena detto Sono cinque Ci sono altri due centri Che sono quelli Che gli uomini Uno, due, tre Non possono Non possono accedervi La quarta stanza Resta vuota La carrozza resta vuota Prendiamola La metafora dell'aurica Sono i centri emozionali superiore E il centro intellettuale Che danno origine al corpo astrale Il padrone La stanza Il passeggero della carrozza Che l'abbiamo anche ripetuto molte volte Quindi Mi sembra che questo doveva essere chiarito Perché per me questo è rimasto un dubbio Perciò io parlo di me personalmente Era un particolare che non riuscivo a mettere a fuoco Perché nessuno me l'aveva spiegato Da solo non ci arrivi Questo è il concetto Bene Io Mi sembra di aver parlato anche troppo Aspetto voi Ci fai un esempio Di quando i tre centri devono lavorare insieme Che devono essere in armonia fra di loro? Allora I centri sui quali lavoriamo normalmente sono tre E allora sono il corpo Il centro motorio e istintivo Il centro emozionale E il centro intellettuale Ricordiamoci tre corpi Tre Allora Possiamo immaginare Un Un diagramma fatto a torta Un disco Prendiamo un disco Lo dividiamo a metà La metà dominante è quella del centro Cioè Prendiamo il centro emozionale Per fare un esempio Dividiamo Un disco a metà Metà di quel disco rappresenta il centro emozionale L'altra metà L'altra metà Rappresenta ancora i tre centri Cioè vuol dire che in ogni centro Ci sono anche gli altri tre C'è ancora una parte della metà Cioè un terzo della metà Che è ancora emozione Un terzo che è istinto e movimento E un terzo che è emozionale Cioè noi Dobbiamo fare in modo che tutti e tre i centri Diventano uno Perché Abbiamo visto nella lettura precedente Che l'uomo uno L'uomo due L'uomo tre Non comunicano tra di loro E non possono comunicare neanche col numero quattro Questo è il caos Non so se ti ho risposto Ma se no mi devi mettere Porre la domanda in un altro modo Cioè Mi riferivo alla frase che ho letto Quello che penso Quello che sento E quello che faccio Devono tendere alla stessa direzione Non sempre ci accorgiamo No Di questa cosa Non ci facciamo caso Perché siamo presi Dalle cose quotidiane Dai problemi che abbiamo E non facciamo caso di dirigere Tutti e tre i centri nella stessa direzione Allora il problema è Che gli uomini uno due tre non hanno volontà Quindi non si impegnano E preferiscono come scorciatoia mentire a se stessi Quindi uno vive tranquillamente Di delle menzogne che si racconta Però non si impegna a evolvere Si giustifica Si identifica Che anche questa è una cosa molto da sottolineare Perché nell'identificazione nascono tutti i problemi E quando uno è identificato non può agire Quando uno è identificato non viene mai raggiunto Da quelli che sono i centri superiori E quindi la strategia è quella di impegnarsi Perché dice qual è il fuoco che fonde i centri L'abbiamo visto durante la lettura Non so se la letta tua o la letta Valentina Sono le frizioni Sono i conflitti I conflitti li devi vivere I conflitti rappresentano il fuoco che fa armonizzare i centri Il fuoco è la sofferenza Non puoi evitare la sofferenza La sofferenza per la tua evoluzione la devi affrontare Altrimenti ti restai lì dove sei Perché vivi nel mondo istintivo e motorio Dove fa tutto il centro istintivo E tu non hai coinvolgimenti emotivi o intellettuali Vedi che emotivo e intellettuale significano gli altri due centri Vuol dire che tu devi avere tutti i centri attivi Ti ho risposto o no? Così, così, così Non so, forse non capisco la domanda No, no, vabbè no Sono ostici gli argomenti Quindi non è che tu non rispondi Va bene Sono difficili da attuare, ecco Per questo ti dico così Cara mia ci vuole impegno Il problema è che ti dico Gli uomini uno, due, tre non hanno volontà Non si capiscono Parlano ma non si capiscono neanche tra sé e sé Non si possono capire e perciò neanche con gli altri Abbiamo visto il trattato chiaramente nell'altro incontro la settimana scorsa nella lettura Ecco così Vi vedo tutti ammutoliti Avete preso paura Valentina com'è? A me, come sempre, manca la parte pratica Io devo capire cosa devo fare Devi fare, devi agire con un programma, con volontà I passi li hai fatti tu Ne hai fatto tanti di passi Ho fatto anche il percorso di coaching Ho fatto E faccio Guarda Se tu segui alla lettera apparentemente il percorso del mago Ha dentro questi concetti qua Che tu lo conosci e tutte le dispense Quindi Va bene Sì, ma quando noi parliamo dei centri, giusto Com'è che li devo equilibrare questi centri? Cioè un esempio pratico In un qualcosa di quotidiano Allora Anche questa sera si parla dell'autoosservazione Tu ti osservi Hai mai provato a pensare di quale centro Da quale centro sei dominata? Hai mai pensato Se tu sei coerente con quello che sai Perché il problema è quello che è nel titolo del libro Quando sei cosciente devi essere coerente Perché credo che tu la teoria l'abbia imparata molto bene E poi la pratica non riesci ad eseguirla perché non sei coerente Guarda che io ne conosco tante persone che sono molto avanti con la conoscenza Però non riescono a metterla in pratica Non riescono Cioè non hanno volontà Questo è Questo è proprio il noccio della questione Non hanno volontà Non si sanno concentrare Non sanno soffrire C'è una collaboratrice di Gurdiv Non mi ricordo il nome adesso Comunque è una che ha insegnato fino alla fine del secolo Che diceva ai suoi allievi Voi non soffrite abbastanza Noi evitiamo la sofferenza Ma la sofferenza è il fuoco che fonde i centri Capito? La sofferenza è il fuoco che fonde i centri C'è l'esempio delle polveri Che l'hai letto proprio tu Se tu non fondi attraverso il dolore La volontà L'impegno I tre centri Tu continui ad essere separato E separata non conviene niente C'è tutta la storia dei molteplici io Che non l'abbiamo ancora vista Ma la vedremo nei prossimi incontri E' la questione pratica la quarta via Non è mica una questione teorica Ti dicevo devi farle queste cose qua Gurdiv nei gruppi Parla dell'importanza del gruppo Faceva fare delle cose Danze Esercizi fisici Con la sospensione Improvvisa di quello che stava facendo uno Uno stava zappando E gli diceva fermati lì Con la zappa per aria Restava lì Con la zappa per aria Doveva avere la volontà E la presenza in quello che stava facendo E lui restava lì Lo lasciava lì Perché quello era la scuola Essere presente in tutto quello che fai Sempre devi essere presente Anche la cosa più banale E' la cosa più utile Anche la cosa più banale Devi stare lì Per esempio Non so quando fai la toilette Che ti pulisci i denti La gente lo fa meccanicamente E vai Lascia andare il cervello Dove vuole lui E magari non si accorge neanche Di esserci lavato i denti Dici ma me li sono lavati Non me li sono lavati Ti ricordi di esserteli lavati Perché ti senti il gusto Del friccio in bocca Magari non sai neanche di averlo fatto Questo è un esempio banale Ma è così per tutte le cose Quindi è praticamente il vivere qui e ora Alla fine Quella è la storia È sempre qua Qui ora presente Ma c'è anche una sofferenza Giovanni Cioè da vivere in determinato modo Cioè passami il termine Una sofferenza giusta È una sofferenza sbagliata Nel senso mi arriva la sofferenza Se rimane pura sofferenza Non mi porta a nulla Mentre se io l'analizzo L'analizzi e l'accetti Ecco allora lì ha senso la sofferenza Antrimenti è soffrire per soffrire Basta È il fuoco che fondi i centri La sofferenza È l'emozione che unisce tutti i centri Quindi un soffrire consapevole Ma certo lo devi accettare Cioè non devi fuggirlo il dolore Il dolore ha un senso Il dolore l'abbiamo visto in altre occasioni Il tuo maestro è il maestro di vita Quindi lo devi accettare Qualsiasi cosa che ti contraria È troppo facile fuggire Non puoi fuggire da nessuna parte Tu i problemi li devi risolvere Il dolore è una delle tue sfingi La sfinge nasconde qualcosa di prezioso La sfinge la devi combattere Non devi fuggire davanti alla sfinge Perché dietro la sfinge C'è il tuo tesoro C'è il tempio C'è il paradiso Certo certo chiaro chiaro Va bene Signori abbiamo passato un'ora Se non ci sono domande Se ci sono domande sono qua Se non ci sono domande ci salutiamo Perché appunto Mi sembra che sia stato abbastanza faticoso questa sera Gli argomenti sono Cosa dici Elena? Non hai il microfono Ho studiato alcune cose dove ho capito che la sferenza è un modo di un programma distruttivo della vittima Non ho capito Se nel programma della vittima hai la sferenza Ah quella è un'altra storia La rabbia La critica anche lì Fa parte del programma distruttivo Quella è un'altra storia Queste cose vengono trattate quando si fa biodecodificazione Qui stiamo parlando della quarta via La quarta via è strutturata in questo modo qua Nella quarta via si fa psicologia transpersonale Quindi si parla dell'umanità nella quarta via Non si parla della persona Perché la persona è dentro di te Tu devi andare là Capito? E questo qua è lo schema mentale di tutti gli uomini Comunque gli argomenti che propone Gurdjieff e poi Ospensky Poi Nicol Ma tutti quanti i suoi collaboratori Poi vedremo quando si fa l'enneagramma Naranjo Le persone che hanno studiato nell'America Latina Questo programma Qua le cose le devi accettare un po' alla volta Perché questi qua sono argomenti che ti danno una rivoluzione mentale Per lo meno Io parlo delle mie esperienze Queste mi hanno colpito molto Mi hanno anche formato molto Mi hanno guarito molte questioni Vedrete come per esempio la questione del raggio della creazione Mi ha tormentato per anni Il raggio della creazione è la conseguenza della legge del 7 O dell'ottava Qualcosa abbiamo già fatto Non in questi incontri Ma chi ha fatto Chi sta nel terzo modulo qualcosa Hai capito qualcosa Valentina? Della legge del 7? Sì quella sì Quella sì Quella sì L'hai capito la legge del 7? L'ho capito Bene E la legge del 3? È un po' più difficile per me Per parlare di queste cose Cioè per parlare della creazione del cosmo E di come vengono compiuti i propositi Dobbiamo fare bene la legge del 3 e la legge del 7 Una volta fatte quelle lì possiamo Affrontare la creazione dell'universo e la nostra creazione e l'evoluzione di ogni nostro problema personale Va bene E niente se c'è qualcuno che ha da parlare E se no io mi preparo a salutarvi Grazie Sì interessante Molto interessante Noemi Hai ricevuto qualcosa o sei in confusione? No 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 Sono pensierosa Sto pensando assinnellando le informazioni che ho ricevuto Mi stavo rivolgendo a Noemi Eccomi Sei riuscita a seguire qualcosa? Qualcosa sì perché grazie alle dirette che ho visto precedenti Qualcosina sono riuscita a seguire Certo è una cosa completamente nuova Quindi è ovvio che è ostica Diciamo che se cerco di capirla e basta Non lo so, non va bene A volte vi ascolto così senza concentrarmi eccessivamente Devo dirti che sento proprio che mi arriva qualcosa Sì Eh ma l'attenzione è importante No no certo che è importante No ma non ti parlo di E' importante un atto di volontà Perché non arriva da sola No no ma figurati Il fatto è che se tu non hai le lettere dell'alfabeto Ti devi anche concentrare a capire un po' le parole Diciamo anche se non hai le decodifiche singole Insomma Allora noi abbiamo cominciato questo ciclo Una settimana fa Buttando lì un argomento Per incuriosire le persone Perché è chiaro che uno non ricapisce queste cose qua Oppure uno crede Sì ma dice ma queste cose le ho già sentite Ma le so sostanzialmente le so E quella è la scusa più banale per non stare attento Per non accettare un processo evolutivo E quindi la strategia Perché non si dovrebbe cominciare dai tipi di uomo Si dovrebbe cominciare da altri argomenti Ma comunque insomma Quei tipi di persone incominci a entrare Nella filosofia di Gurti Guarda che è una cosa rivoluzionaria Tu non sai quante gente c'è che studia Gurti E quante scuole ci sono Ma in tutto il mondo In tutto il mondo Gente che ha commentato le lezioni Gente che ha commentato i gruppi Perché poi Gurti è stato a Parigi È dovuto scappare da prima dall'Eritrea Poi da Murca, da San Pietroburgo Poi a Parigi hanno comprato un castello Ci muoveva con cento persone Tutte persone super esperte nei loro Nei loro settori Ospensky era un professore universitario Professore di fisica, di matematica, di filosofia Un personaggio che quando ci sono incontrati Che hanno fatto la rivoluzione Insomma Sono In America Hanno In Colombia E in Perù Hanno fatto delle scuole che hanno sviluppato L'enneagramma delle persone I tipi psicologici Queste cose qua Li vedremo Io l'ho conosciuto Claudio Naranjo Che è stato uno dei discepoli di Gurdjieff Va beh Succederanno delle cose Se avrai pazienza ce ne vuole molta pazienza Ci vuole molta costanza Ci vuole molta coerenza Perché la gente non è coerente La gente si racconta tante di quelle balle E poi si domanda perché le cose non funzionano Non funzionano perché uno mente a se stesso Va bene Io vi ringrazio di essere stati presenti Dei vostri interventi E Martedì prossimo parleremo di In che cosa consiste il lavoro sbagliato sui centri Visto che I centri sono la base di questo lavoro Quindi Martedì prossimo Se ci sarete parleremo di quello Ok Vi ringrazio della vostra presenza Vi do la buonanotte Ciao a tutti Ciao a te Buonanotte C'è Mira e Anca nascosti Comunque saluto anche loro Ciao a tutti Ciao a tutti